Il secondo round della Formula 4 Saudis Asia è andato in scena a Sepang, il circuito, il tilodromo probabilmente più famoso al mondo non è, il circuito è ospitato per diverse stagioni, il campeonato mondiale di Formula 1 è stato anche sede, teatro purtroppo, di partita, della scomparsa del compianto Marco Simoncelli, quindi una ferita aperta per tutti gli amanti, tutti gli appassionati del motorsport e ha visto partire dalla prima fila Adrian David e Raffael Nara, seguiti da Jeff Beaton e Thomas Stolzermanis, quindi alle loro spalle Enzo Ye e Inna Amuraberta. Da notare è Jeff Beaton, il super favorito di questa stagione, è partito soltanto in terza posizione, alle spalle di due fuori classe, Ome David e Nara, i due piloti francesi di Assa Ace GP, e di fatto hanno tenuto a bada il pilota AGI Sport. A seguire l'esordio di Dorian Penn sulla Formula 4 con il team Prema e Aida Rianani, dunque Alistair Yon, figlio d'arte, figlio di Alex Yon e Peter Buzinellos, quindi Arjun Cedda e Liu Aishun, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. Faccio notare che Alistair Yon non è un nome nuovo, corre infatti nel campionato italiano Sport Prototipi e Van è abbastanza bene. An ora Ristofer Arido e Fuyu Aou, rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione, quindi Nicola Astati e Van Zongwei, e a seguire Xiao Unpen e John Loi, rispettivamente in diciassettesima e diciottesima a sella. In via di partenza, Van Zongwei e Xiao Unpen sono due nostre vecchie conoscenze, anzi due piloti hanno preso parte ad altre tappe di questo campionato, piloti insomma non hanno bisogno di rosse presentazioni. Forse di quale presentazione ha bisogno di questo campionato, o meglio questo round, perché purtroppo per quanto riguarda il secondo round e a Orso insieme alla Endurance, a Sepan, non ha avuto apertura televisiva l'intero weekend, anzi ha avuto apertura televisiva soltanto la prima delle tre aree in programma. Dunque vi racconteremo questa sintesi, quello è avuto nel corso della Era 1 e cercheremo di sintetizzarvi per quanto possibile, an e quanto è avuto poi al termine di Era 1 nelle successive due aree. E sono state an e più emozionanti a giudicare dai report ufficiali di quanto abbiamo visto e raccontato in diretta nel primo atto del secondo weekend della Formula 4 Saudis Asia Championship, powered by, anzi certified by FIA. E dunque vedete, anni c'è lavoro sulla vettura numero 45 del team AGI Sport, team è di fatto un pilota e si avvia in maniera abbastanza tranquilla verso la conquista del titolo. Parliamo ovviamente dell'australiano Jack Beaton, altra nostra conoscenza di cui abbiamo raccontato nella winter season negli Emirati Arabi e comunque nel Medio Oriente. E intanto l'artello dei 5 minuti al via viene esposto andando di fatto a ridurre il numero di persone in via di partenza attorno alle vetture. Quindi la frenesia degli ultimi minuti prima della partenza si fa sentire. An e sulla vettura di Enzo Yeh, Rui e Orre tra l'altro on licenza italiana pur non essendo di fatto italiano, pilota e tra l'altro è ostato alla Ferrari Driver Ademi. E qui in questa inquadratura vedete uno dei punti più ionici di questo tracciato. Di fatto quello è... divide i due lunghi rettilinei e poi è la vettura di Inna Amuraberta, la vettura del team Prema. E poi l'immagine su questa urva, l'ultima urva, e di fatto va a dividere i due rettilinei. L'ultimo dal primo, l'ultimo rettilino su cui sono serate le monoposto prima della partenza, da cui poi partiranno periodo di formazione facendo un mezzo giro, anzi facendo questo breve tratto, portandosi dunque sul rettilineo di partenza, quello ufficiale. E distinguete da questo per la presenza dei anonicici e semafori, mentre qui ce ne sono soltanto tre. I semafori e poi vanno a spegnersi all'unisono, andando di fatto a sancire il via. Da inquadratura generale ci spostiamo sulla vettura numero 8 del team Prema, guidata da Dorian Penn, pilota francese, all'esordio su questa tipologia di vetture. La sua prima gara sulle monoposto dopo tanto tempo, è per lei un esordio dopo tante stagioni nel GT Portiale in Genève. Si dice una preparazione per la stagione di F1 Ademi. Ma andiamo in ara, in partenza una vettura rimane ferma nelle retrovie per poi partire in ritardo o dandosi al gruppo. Non buonissima la partenza dei due piloti francesi, Nara e David, che occupavano la prima fila, parte molto bene invece Jay Beaton e va subito a tentare di affiancarsi a Nara, ma poi deve odarsi perché non ha abbastanza per tentare di pressare ulteriormente i due francesi di Asa Race GP. Per quanto riguarda il pilota del team AJ Sport, è uno dei principali indiziati per la lotta al titolo, diciamo, è tutto grasso e ola in vista dell'ultimo round e si correrà nel successivo fine settimana sempre sullo stesso tracciato. Continuano le battaglie, qui vediamo una e vede protagonista, la vettura numero 72, quella di Liu Aishun, e poi la vettura numero 46, quella di Peter Buzinelos, del team AJ Sport, on Buzinelos e si gira per decontrollo e dunque deve ripartire di fatto dalle retrovie. Ma intanto c'è Han e la pilota francese Dorian Penn e tenta di difendersi dall'arrivo degli avversari, in particolare del pilota indiano Aydar Yannani del team Pina on Motorsport, andando Han e diverse volte a blocaggio. I suoi blocaggi saranno un po' il leitmotiv di questa gara 1 del week-end. Ricordiamo l'unica gara prodotta dalle immagini televisive e poi hanno ora i duelli, duello tra Van Zonwei e tra Alistair Yon, pilota e tra l'altro è figlio d'arte, figlio di Alistair Yon, pilota e orso in Formula 1, mentre lui Alistair corre nel campionato italiano Sport Prototipi on buoni risultati tra l'altro. Ma la gara finisce dunque in maniera abbastanza regolare con la vittoria di Adrian David e iude davanti a Rafael Narà e Jack Beaton a iudere il podio. Sostanzialmente è stata una gara tutto sommato tranquilla, senza un olpo di scena, anzi possiamo dire una gara lineare e non ha dato troppe sorprese. E dunque la si vede Adrian David davanti a Rafael Narà e Jack Beaton, quindi Enzo Yeh davanti a Inna Muraberta, Thomas Stolchermanis, Haidaria Nani, Liu Aishun, Arjun Cedda e Dorian Penn a chiudere la top 10. Dorian Penn a chiudere la top 10. Iudere i pneumatici praticamente quadrati a furia di andare al bloccaggio e di frenare al limite. Dunque questa è la top 10. Ricordiamo che per l'ara 2 c'è Liglia invertita, mentre per l'ara 3 si andrà in base ai risultati della qualifica che si è disputata nella giornata del venerdì. Alistair Yon fuori dalla top 10, davanti a Van Zongwei e Shao Humpen, quindi Nicola Stati e John Loi a seguire Fuyu Auge in arrido e Peter Businellos in diciottesima e ultima posizione. Sfortunatamente non abbiamo immagini per raccontarvi in era 2 e era 3, non c'è stata produzione televisiva per quel weekend in quanto la 1000 km di Sepan si è disputata al sabato, al termine dell'era 1, quindi le teleamere sono state smontate prima si disputassero il terzo appuntamento al Sepan International Circuit. Però vi possiamo dare un breve risconto. In era 2, con Liglia di partenza invertita rispetto all'ordine di arrivo di era 1, la vittoria è andata ora una volta ad Adrien David e ha preceduto Enzo Yeh e Dorian Penn, la pilota francese, e tra l'altro si è giudicata il giro più veloce proprio in era 2. In era 3 invece oltre alla vittoria solida del pole sitter Adrien David, ricordiamo in era 3 c'è una Liglia di partenza dettata dall'esito delle qualifiche, Adrien David è stato alla pole position, è andato anche a vincere, secondo l'ha si fiato, secondo posto quindi, anche sul secondo radino del podio per In Amuraberta e ha giudicato il giro più veloce in era, mentre a chiudere il podio sul radino più basso Thomas Stolcermani, s'autore di un'ottima progressione in tutto il secondo weekend di Sepan, è partito con un sesto posto in era 1, seguito dal quarto in era 2 e poi il podio, il terzo in era 3, quindi un'ottima progressione per il pilota di Asa Prema, uno dei piloti da Teneroglio per il futuro.